Domenica si gioca la dodicesima giornata di campionato, siamo a buon punto del girone d'andata che ricordiamo terminerà con il diciassettesimo turno in programma domenica 22 dicembre. Campobasso pronto a ricevere l'atletico terme Fiuggi per Cudini, due assenze per squalifica, mancheranno infatti sia Bontà che Van Zan, entrambi squalificati per il quinto giallo stagionale rimediato domenica scorsa a Cattolica. In mediana dovrebbe rientrare da primo minuto Pizzutelli, salvo un cambio di modulo con la scelta di tre attaccanti. In difesa dovrebbe esserci un avvicinamento naturale con la barba pronto a sostituire l'assente Van Zan. Uomini a parte che scenderanno in campo contro i laziali, la piazza si aspetta subito un ritorno alla vittoria, senza se e senza ma. Serve riprendere il cammino e portare a casa non solo il successo domenica al Selvapiana ma anche contro il Chieti nel turno successivo. Abbiamo di fatto appreso di un cambiamento di obiettivi dal tecnico Cudini che in sostanza ha detto che nessuno gli ha chiesto di vincere il campionato. Probabilmente è vero, anche se credevamo di aver capito altro durante l'estate, come è vero che si pensava quantomeno di lottare per le prime posizioni e su questo siamo in assoluto ritardo con un passivo abbastanza ampio. La classifica è di fatto spezzata con le due battistrada che hanno fatto il vuoto rispetto al Montegiorgio che oggi occupa la terza posizione a quota 20. Un campionato livellato verso il basso nel carderone di centro classifica sono raccolte praticamente tutte le squadre a dimostrazione di un torneo dove i valori si equivalgono, eccezione fatta per le prime. Intanto segnaliamo che la partita Chieti-Campo Basso in programma il prossimo 24 novembre è stata anticipata sabato 23 sul campo neutro di Ortona, sempre alle 14.30. I lavori di manutenzione in corso di svolgimento allo Stadio Angelini non sono terminati e dunque nuovo cambio di sete per la società abruzzese che dopo aver giocato a Pineto e Città Sant'Angelo sarà ospite dell'Ortona. Il basso Girardi prepara la sfida interna al Chieti. Mister Farina dovrà rinunciare al capitano Sergio Ruggeri fermato per tre giornate dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata a Montegiorgio durante l'intervallo. Punizione davvero severa, stessa sorte toccata all'attaccante del Montegiorgio Titone. Ruggeri salterà la sfida di domenica, poi Giulianova e San Giustese. Un'assenza pesante per Farina che dovrà valutare il sostituto nell'ampio periodo. Pronto a subentrare Matteo Corbo che in diverse circostanze nel corso degli anni ha spesso ricoperto il ruolo di difensore centrale. Questa è la soluzione più plausibile anche per non snaturare il sistema di gioco. Chieti in serie nera, solo quattro pareggi immaturati nelle ultime otto giornate. La vittoria per i teatini manca addirittura dal 15 settembre, precisamente dal 3 a 1 in casa del Porto Sant'Elpidio. 11 punti per i neroverdi al momento in zona play-out con una classifica corta. Detto questo il vaso Girardi ha bisogno di riprendere la marcia per la salvezza diretta. 16 lunghezze in campionato per gli uomini di Farina che devono sfruttare nel migliore dei modi una sfida diretta tra le mura amiche. In casa bisogna continuare a macinare punti e mantenere l'imbattibilità ad oggi violata solo dall'Agnonese se proprio vogliamo considerare questo dato per ovvie ragioni di stesso impianto di gioco. Farina si affida ai suoi attaccanti, Petrone e Chiere Mateng, oltre che a Varsi che in non perfette condizioni ha iniziato dalla panchina le ultime due gare. Insomma ritrovare il successo e allontanare una diretta concorrente, questo l'obiettivo dei gialloblu. In casa Granata staff tecnico e squadra sono concentrati per l'importante trasferta di Tolentino. Stesso discorso fatto per il vaso Girardi, uno scontro diretto dove bisogna portare a casa punti. Il Tolentino è terzo ultimo con 10 lunghezze, frutto di due vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. In casa il rendimento dei marchigiani è stato altalenante con tre pareggi, due sconfitte ed una sola vittoria. Insomma una sfida sicuramente complicata ma non impossibile per gli uomini di Mister Pizzi. La forma dell'Olimpia agnionese è sotto gli occhi di tutti. In sei giornate quattro vittorie con le sconfitte arrivate contro Campobasso e Notaresco, sicuramente sconfitte con l'onore delle armi. L'identità di squadra è arrivata alla prova lampante domenica scorsa con l'inferiorità numerica gestita dal minuto 19 del primo tempo. Una prova di forza che può far solo crescere le potenzialità di un gruppo che sta dimostrando di avere valori importanti e sicuramente regola per l'obiettivo salvezza. Toccherà ancora a Coneggio giocare nel ruolo di centroavanti per ovviare la seconda giornata di squalifica di Acosta. Non solo, mancherà nuovamente Europa H, squalificato per recidività in ammunizioni. Per sostituire il centrocampista si giocano il posto Perkovic e Diarrà. A proposito della squadra, ai nostri microfoni il terzino Nicolao. Noi venivamo da una grande partita fatta lì contro la capolista e abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Oggi meritavamo la vittoria, l'abbiamo dimostrato. Nonostante avessimo un uomo in meno, credo che la Iesina non ci ha mai messo in difficoltà, non ci ha mai fatto un tiro in porta al secondo tempo, a meno che ricordo importante. Quindi una grande partita. Sono contento per noi, per tutti.